Nero, con ciuffo di capelli, era simpaticissimo. Si è litigato lui, non vanno su. E tra i cosiddetti momenti si erano fatteva. Ma come non c'è lì? Intanto quelli che sapevano sono morti ripensati dal corpo, come Magdalete, come quell'altro, famosissimi. Lui, il suo malato, aveva un male più così. Perché sapevano. Adesso cantiamo una romanza in alto. Il mio cuore 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.